mister alla vigilia aveva posto l'accento sulla fisicità del torino che partita è stata ce la racconta eh sì questo mi pare sia stato confermato il torino ha grande forza fisica ha grande personalità giocatori di qualità e il genoa ha fatto per me una buona partita una buona partita perché tenere il campo così con con questa attenzione anche con questa personalità in casa loro è certamente un grande merito un altro punto che ci avvicina all'obiettivo ma il genoa ha dato anche vicino al gol il palo di zappacosta per esempio lo vede come un punto guadagnato o si aspettava di più io vedo un ho visto una buona partita quindi una partita fatta da una squadra sottolineo squadra fatta fatto di di attenzione fatto anche di qualità fatto anche di occasioni perché per me genoa oltre al palo ha avuto zibor ha avuto marco piazza che che insomma situazioni davvero pericolose quindi torno a dire avere occasioni da gol contro una squadra che è in grande salute perché il torino in grande salute è un grande merito gol da niga entra dalla panchina fa una chiusura in area da protagonista è un ottimo segnale quando anche un giocatore che entra da fuori è subito protagonista in positivo esatto sono d'accordo sono d'accordo perché questo è penso è un punto di forza tutti tutti i ragazzi sono coinvolti sono molto seri c'è grande impegno c'è grande coinvolgimento e questi sono i risultati tutti i ragazzi sono coinvolti anche rovella sostituisce badel al centro del del gioco gioca a specchio con mandragora anche da lui segnali positivi si aspettava questa prova da rovella l'avevate preparata così si ha fatto una buonissima partita ma lo vediamo tutti i giorni è un ragazzo che cresce ogni giorno e quindi oggi ha confermato tutto quello che di buono ci fa vedere quotidianamente Sesto risultato utile consecutivo un gol subito il Genoa ha trovato la sua fisionomia quel Genoa che sta giocando in questa maniera così compatto coeso ma sì però è un attimo diciamo così perdere perdere qualcosa che poi che poi diventa decisivo quindi diciamo così che tutto questo conferma che da qui in avanti devi devi essere questo perché se se perdi di vista quelle quelle prerogative che che ci fanno ci fanno fare diciamo così queste prestazioni tutto diventa più complicato grazie mister grazie a voi